Dopo sette giorni l'avvertenza Mondial Group torna sul tavolo del Ministero. L'appuntamento è per domani pomeriggio alle ore 16. Lavoratori e sindacati sperano che domani sia il giorno definitivo. Il mese dovrebbe infatti dare risposte sul piano industriale che ci si augura l'azienda presentato. Durante la riunione dell'11 luglio venne messa in evidenza la necessità di far fronte comune e collaborare per dare vita nuova allo stabilimento di Montemiletto specializzato nella produzione di vetrine frigorifero. In quell'occasione, per prima cosa, venne chiesto di cambiare le cause di intervento dalla Cassa Integrazione straordinaria da ristrutturazione a crisi, prima della sua scadenza prevista per ottobre, praticamente fra tre mesi. Un'idea che anche i sindacati sarebbero pronti a sostenere. A patto che da ottobre, dopo il termine della Cassa Integrazione, venga avviata una nuova fase di ammortizzatori sociali e ordinari per favorire l'iter di rilancio dello stabilimento. Il progetto di rilancio è stato depositato l'anno scorso, ma i ritardi della regione rispetto all'emanazione di bandi per l'accesso al credito agevolato ha di fatto bloccato tutto. Ma la speranza di poter rilanciare la Mondial Gruppo non è del tutto tramontata. Però bisogna portare avanti un intervento di ristrutturazione della fabbrica. Insomma, se c'è un'effettiva volontà di salvare lo stabilimento, è ancora possibile farlo. Ed il vertice di domani a Roma sarà la cartina di tornasola.